E' terminata la seconda giornata fra PGG Bresso e Cometa, siamo qua con Simone Cavadini, autore di 4 gol. Simone cosa pensi di questa partita? E' stata una partita molto dura perché bisogna ammettere che loro sono veramente forti, però siamo riusciti a portarla a casa e sono molto contento per i 4 gol che sono già 7 dopo 2 partite. Io spero che quest'anno si possa vincere il campionato. Grazie Simone, ci vediamo alle prossime partite. Ciao. Passiamo ora ai giocatori del PGG Bresso. E' qua con noi Francesco Vignola e mentre vediamo le azioni dei suoi compagni di squadra chiediamoli un commento su questa partita. Allora, la partita abbiamo perso, però abbiamo giocato in 5 e nonostante tutto ce la siamo giocata, senza cambi era difficile. Per te è il primo anno di Calcio 5, cosa ti aspetti da questo sport? Senza dubbio voglio migliorare per dare un punto decisivo alla mia squadra. Ringraziamo Francesco, diamo l'appuntamento al PGG Bresso per le prossime partite. Ciao a tutti, grazie, forza Bresso.